Ciao ragazzi, ieri con l'uscita del video sul mio consiglio su come collezionare le Ferrari F1 Collection mi è arrivata una domanda veramente frequentissima da parte di tutti voi ovvero che luci ho utilizzato per illuminare la vetrina Detolf? Allora molto semplice, io ho utilizzato questa luce a led di Amazon che potete trovare al link che vi lascio qui sotto in descrizione è un neon molto semplice dai bassi consumi e che vi garantisce una buonissima illuminazione nella parte superiore dove c'è il legno io l'ho attaccata con i pratici inserti che potete trovare all'interno della confezione mentre invece sul vetro l'ho attaccata con del silicone trasparente mi raccomando fatemi sapere se vi è stato utile questo video lasciatemi un commentino e ricordatevi di seguirmi con un bel follow